Con Simone Negri, consigliere regionale del Partito Democratico, qui davanti alla stazione di Vigevano per sottolineare il problema dei treni, del raddoppio della linea che probabilmente rischia di saltare la prima ipotetica tratta a Biategrasso al Bairate. Cosa sta succedendo e cosa si può fare? Come consiglieri del Partito Democratico abbiamo da poco scoperto che in realtà il raddoppio della linea Milano-Mortara nella tratta tra il Bairate e Biategrasso, finanziata con 120 milioni di euro del PNRR, starebbe saltando perché come scadenze siamo troppo in là, come sapete il PNRR ha delle tempistiche molto stringenti e le opere devono essere tutte collaudate entro il 2026 e soprattutto è martoriata da un aumento dei costi che è inconcepibile del progetto perché partiamo da 120 milioni di euro, pare che siamo arrivati a 280 milioni di euro, così ci risponde l'assessore all'infrastruttura Lombarda Terzi. Quindi questo è un fallimento della filiera della destra, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti passando per Regione fino al Comune di Biategrasso e noi siamo qua per dire che questo chiaramente è un disastro ma al contempo noi vogliamo rilanciare con forza l'idea del raddoppio. Noi dobbiamo pensare a una strategia diversa, la proposta che il Partito Democratico avanza è di ripartire da sud, cioè di ricominciare a ragionare del raddoppio per tempi, in maniera scalare cominciando a raddoppiare la tratta intorno a Mortara, Parona. Ci viene detto anche da Trenordi in Commissione che partendo da lì si potrebbero già risolvere parecchi dei problemi che oggi il servizio ha. La sensazione è che la linea ferroviaria sia completamente fuori controllo. Io oramai sono pendolare da 15 anni e ho visto degradare progressivamente questa linea senza soluzione. Gli ultimi interventi veri che la Regione ha posto in essere sono quelli del 2018 con l'ottenimento dei treni in Vivalto quando tutti assieme, maggioranza, opposizione, sindaci della tratta ci recammo in Regione all'epoca di incontrare l'amministratrice delegata Farisè. La sensazione è che questo territorio sia nettamente un territorio sfavorito rispetto alle altre aree della Lombardia. Si predilige mandare i treni a Como, a Lecco, a Brescia, a Bergamo, nelle tratte ricche della Lombardia, dimenticando e mortificando questo territorio. Con Pietro Bussolati, consigliere regionale del Partito Democratico, anche lui questa mattina in stazione a Vigevano per sottolineare il grosso problema della linea Milano-Mortara. Dovrebbero arrivare nuovi treni? Sì, questa è una delle linee in cui a fronte di un servizio pessimo i passeggeri aumentano perché c'è un bisogno enorme e anche la mobilità privata è ingolfata perché le strade che portano a Milano sono tutte ingolfate, quindi servirebbe davvero un servizio ferroviario all'altezza. Trenord e la Giunta Fontana raccontano che i nuovi treni saranno la panacea di tutti i mali, ma non è così perché i nuovi treni sono sicuramente più moderni, quindi si romperanno meno, quindi avremo meno soppressioni, però sono più piccoli. Quindi hanno il problema che hanno meno possibilità di trasportare passeggeri. Quindi non sono la soluzione, per di più ci hanno dei problemi di manutenzione perché la manutenzione va aggiornata sulle nuove tecnologie, sulle nuove strutture che i treni nuovi portano.